buono giorno per me non tantissimo ma per voi buono giorno ragazzi oggi abbiamo live numero 2 di starcraft 2 legacy of the void in cui affronterò il multiplayer oggi sarà una dura giornata per me ormai molto fuori allenamento e mi sfonderanno brutalmente le chiappe vedo dei movimenti in consulti in redazione che non voglio neanche capire cosa stiamo per fare ma va bene così comunque tornando a noi oggi non sarà una bellissima giornata per il sottoscritto perché come ben sapete io giocavo a starcraft ho smesso per molto tempo mi sono rimesso sotto per legacy of the void non ho chiaramente ancora la mano l'unica roba che ho è la teoria cioè ho ancora un po di teoria a livello di build orders a livello di meccaniche di base quindi quella è l'unica cosa che probabilmente posso ancora fare cioè cavichiarmela in qualche partita non sarà una passeggiata per me affrontare il multiplayer non sa difficilmente fra una gran figura quel che è certo è che inizierò facendovi vedere un attimino comunque l'addestramento e le modalità cooperative le modalità cooperative sono molto interessanti le missioni cooperative con vari eroi sono molto interessanti poi farò un po di addestramento e poi andremo a fare una partita non classificata i miei colleghi sono degli imbecilli potete andarvene per favore grazie grazie mille allora vabbè 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 comunque comunque dopo questo fantastico siparietto possiamo iniziare a fare le meccaniche di base cioè l'addestramento vedete che l'addestramento in game è piuttosto completo si parte dalla fase 3 cioè quindi con le con le meccaniche fondamentali ma contenendo anche quelle avanzate ricordiamoci che starcraft è molto complesso farò anche una guida per i neofiti a breve in cui cercherò di spiegare un attimino le basi anche perché a quelle mi posso limitare ma insomma nonostante sono io sia quasi sicuro che la mia prestazione sarà più che pessima fidatevi comunque di me perché come ho detto almeno a livello di teoria un po rimango informato e comunque giocatori forti li seguo il problema è appunto quando devo giocare io che quello è quella la problematica grave ho il volume un po troppo alto ok si fire dragon su youtube cercate cercate fire dragon su youtube che è proprio forte dice il buon valentini e niente vediamo come si chiude qui ho già ritardato forse troppo a fare a fare il deposito infatti probabilmente avrò qualcosa devo addestrare 16 scv come base non è una cosa particolarmente difficile questo è sicuro adesso arriva br refineria barrax e chiudiamo poi torni qua no anzi no penso che andrò di raffineria 2 a 16 ma questa la mettiamo a 4 questa la mettiamo a 6 non bisogna mai smettere di produrre sono un po indeciso a 22 refineria un supply extra direi che può andare appena esce il 20 faccio un altro supply e chiudo allora questo è il tutorial quindi qua sto un attimino riprendendo la mano sulle costruzioni non mi serve più fare lavoratori in realtà cioè mi serve ancora in realtà per le raffinerie forse sarebbe il caso di ddd sono a 20 no faccio vado di base singola per ora e penso che costruirò una factory immediatamente un marine per sicurezza magari anche due altri lavoratori tu vai qua tu vai qua poi cosa potrei fare reactor no reactor tengo questo in difesa e questo in reactor e poi potrei fare l'orbital appena finisce questo esattamente direi che anche un buon momento per fare un secondo command center e poi spostarlo di lì la factory direi che posso far partire gli starport immediatamente vado di reactor sono già troppo lento è così come sto facendo adesso molto 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 troppo lento e quindi sarà veramente un problema però almeno i mule che posso utilizzare anche se forse avrei fatto bene a scautare allora vediamo come cosa se ce la posso fare il reactor mi servirà poi per questo per fare liberator dopo di che vado di tech e vado di liberator e vado di liberator e oddio non ho fatto i supply sono un coiote tu sali tu sali tu scendi ti metti qua tac tu scendi e ti metti qua ok ho due lavoratori inerti che quindi va già malissimo a dimostrazione di quanto sono fuori allenamento iniziamo a costruire questo iniziamo a costruire questo tu sali e appoggiate qua che poi c'è da andare a lavorare tu posizionati qua direi che scauto zergoni con i rocci e così sia spaccateli ok qua coso qua liberator a go go ah non ho gas vespene perchè chiaramente non mi sono messo abbastanza rapidamente a lavorarci su no qua mi serve prima questo e qua invece sb allora un lavoratore inerte si uno due dove vai? vabbè non importa mi serve un altro liberator devo cercare di fare un po' di liberator con con il coso e poi vediamo la torre è presa così a occhio ok mi so che mi serve il vespene ti mando il vespene i mule vanno utilizzati raffica ok allora ho il libretto il libretto sono una nuova unità molto molto figa che mi piace un sacco perchè sono fondamentalmente dei siege dei siege aerei sono dei siege aerei e sono molto potenti se li usi come si deve quindi sono piuttosto pericolosi direi che posso andare di no restiamo di qua aspetta qua altri depositi chaps 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 direi che possiamo partire con il primo attacco a breve questi li sieggiamo così il zerg non passa un cazzo e infatti non è passato un cazzo perchè coi siege tank non passa un cazzo e quindi si va e adesso contrattacchiamo questi li metto sul 2 e li metto di qua non ho gli steam ma al momento non è una cosa così obbligatoria potrei buildare anche qualche widow mine ma me lo risparmierò per il momento perchè le metropesi siano divise mi è al momento oscuro ma va bene così diciamo che andiamo verso di qua con queste poi farò harassing che non dovrebbero essere pronti per l' harassing ah non l'ho messo ancora un po' allora vediamo un po' cosa riesco a fare qua piazziamo i nostri siege e iniziamo con l'attacco e adesso andiamo qua dietro e gli facciamo una sorpresona eh questo gli farà male eh no però si sono si sono difesi non riesco probabilmente a fargli il disastro che volevo è un peccato ma va bene comunque perchè ho i miei siege tank qua sotto che possono fare un bel disastrone e non c'è nulla che possano fare intanto sposto il siege da qua andiamo a spaccare le i droni che è discretamente difeso qua dovrei avere comunque abbastanza unità e infatti ora posso andare e direi che la partita è già praticamente finita ma eh anche perchè qua ho degli altri marine che manderò all'espansione e quindi via vabbè chiaramente trattandosi del tutorial è molto facile qua mi sono messo sbattuto completamente dei degli degli scv adesso qua chiaramente mi sta attaccando coi droni e però adesso è fregato fondamentalmente è bello perchè appunto i liberator qua fanno un bel disastro se li lasci fare come si fa a non apprezzare i terra nella loro cattiveria obiettivamente a me è sempre stata la mia razza preferita e non me ne pento assolutamente qua ormai è un massacro no vabbè è un massacro ragazzi assolutamente un massacro ma d'altronde è l'IA e quindi al momento è una passeggiata di salute questo roach ci saluta e via fondamentalmente si qua mi dice costruisci depositi ma anche in pochi cacchio se ne frega cioè obiettivamente la partita è già finita non sarà così facile online ovviamente come ho detto i liberator sono molto buoni per una build mech di questo tipo vanno che è una meraviglia certo non è sono tutt'altro che imbattibili hanno delle grosse debolezze in particolare la resistenza è quello che è ma funzionano alla grandissima i terran sono molto indicati per i principianti come il sottoscritto cioè per quelli comunque fuori allenamento perché si tratta comunque di della razza più indicata per per chi è per chi non vuole niente di completamente fuori dal mondo perché i protoss sono molto micro based laddove invece gli zergs funzionano un po' per i cavolacci loro cioè fanno un po' quel diavolaccio che vogliono loro cioè sono hanno una strategia molto difficile da applicare e insomma non sono proprio intuitivissimi come unità come diretta conseguenza tanto qua ho fatto un one base sit perché ho fatto l'attacco subito ma di norma è una cazzata farlo il liberator non può attaccare le strutture pensavo si sarebbe ritirato ah gg infatti va bene benissimo esatto come scrive zaragon567 imparate i tasti rapidi perché imparare i tasti rapidi è fondamentale in starcraft legacy of the void specialmente legacy of the void che è molto più veloce allora allora vediamo vediamo che modalità è pregi questo è semplicemente il tutorial ragazzi vi ho semplicemente fatto vedere il tutorial fase 3 che è quello che ti mette contro il computer e poi ti insegna delle build base e roba varia allora io con gli zerg non so assolutamente giocare infatti nella loro guida mi limiterò alle base ma è bello complicato come potete vedere è veramente molto molto complicato il problema è che appunto il titolo presenta tre razze incredibilmente diverse tra loro i terran come avete visto sono una razza piuttosto streamlined cioè espansione relativamente rapida meno degli zerg che espandono praticamente subito espansione relativamente rapida ti butti o sulla bioball e quindi fai unità di terra soldati soldati di vario tipo supportati poi da delle widow mine o da dai medivac che li curano e quindi fai tutto di bioball e hai un'armata semplice ma che a metà partita è estremamente potente estremamente difficile da contrastare chiudendoti un attimino in difesa perché le tue strutture te lo te lo permettono almeno all'inizio anche se in legacy of the void della strategia difensiva è un mezzo suicidio se portato avanti troppo a lungo i terran sono la razza più base ma non sono poco complicati da usare sono comunque complicatissimi da usare i protos sono un'altra razza relativamente intuitiva ma si basano molto di più sui warp sul posizionamento delle unità sulla micro in generale quindi richiedono un po' più skill a livello di micro piuttosto che dove la micro per chi non lo sapesse è la gestione delle singole unità i protos sono più complicati hanno tantissimi trucchetti fighi diciamo che sono una razza comunque avanzata gli zerg sono una roba completamente aliena cioè laddove i protos e i terran hanno delle similarità gli zerg funzionano un po' per i cavoli loro con delle... con una gestione delle risorse delle unità delle strategie completamente diverse un trading continuo delle unità perché sono molto aggressivi sono molto espansivi proprio infestano la mappa e tendono ad attaccare costantemente anche se perdono le armate non gli importa perché continuano ad andare avanti di risorse di macro con una cattiveria unica e sono molto difficili da gestire perché sono... sono brutali ora come ho detto domani farò uscire una guida di consigli per i neofiti il fatto è che ripeto la mia guida è molto base il modo migliore per imparare è giocare adesso farò una partitella non classificata contro qualcuno prenderò subito cazzi come se non ci fosse un domani cercherò di fare un'altra irax cioè una build a 3 barra che è bioball ma tanto ho l'impressione che verrò massacrato malamente dopo essere stato massacrato malamente credo proprio che proverò a fare una missione cooperativa che sono molto belline vorrei farvele vedere ah intanto sto downloadando elementi a caso probabilmente mappe o cose così mentre fa la scarica io valuto allora allora che ne penso di Halo Wars non l'ho mai giocato a fondo Halo Wars non sono un suo super fan quindi non ti saprei dire da quello che avevo visto mi sembrava molto semplicistico di certo estremamente più semplice di quanto non lo sia appunto uno Starcraft 2 ma sto elemento com'è ci mette così tanto scaricarmelo qual è il problema? che roba strana non dovrebbe avere tutte queste problematiche per scaricarmi uno di sei è diventato adesso non più uno di due come mai ci sta mettendo così tanto a scaricare gli elementi per le non classificate che ieri le faceva senza problemi non capisco non capisco assolutamente non non capisco assolutamente non colgo come mai ci sta mettendo così tanto per una non classificata provo un attimo ad annullare e a riprovare questo non è un buonissimo segno legacy consigliato il 1000% per tornare a giocare a Starcraft 2 consigliato il 1000% perché è sicuramente la miglior parte delle 3 di Starcraft 2 il problema è che appunto non è intuitivo o accessibile comunque come gioco è un gioco estremamente difficoltoso da gestire e da imparare what the fuck is happening qua perché non mi sto scaricando gli elementi per giocare online questo non è positivo per niente adesso sono diventati 8 gli elementi invece di diminuire di scaricarmi gli elementi mi aumentano gli elementi da scaricare qua c'è qualcosa che non quadra non capisco ci sarà stato un aggiornamento recente che mi sono perso ah ok siamo ad onload elemento 2 speriamo che vada più velocemente di quanto sembra nel frattempo risponderò a qualche domandina che strano che strano per davvero eh starà scaricando le mappe online la cosa strana a zaragon è che dovrebbe metterci un nanosecondo perché qua abbiamo la fibra e in realtà ci sta mettendo veramente tanto scaricarle che non è normale come cosa perché mbò mbò davvero mbò davvero 3 su 8 vabbè ciao fifi marvel fan che roba strana vabbè scusate per l'attesa ragazzi non mi aspettavo che ci fossero dei download extra da fare al momento anche perché ieri funzionava tutto nella norma 4 su 8 ci siamo quasi ma tanto il risultato non cambierà nel senso questa attesa è solo qualche minuto in più prima della mia disfatta con ogni con ogni probabilità named starling si saluto anche te saluto anche te però adesso non è che posso stare qua a salutare tutti quelli della chat please stand by ok download 6 su 8 forse ce l'abbiamo quasi fatta ok inizializzazione 1 vs 1 finalmente non so perché ci abbia messo così tanto di norma lo faceva veramente rapido cioè me l'ha fatto rapidissimo a casa mia che ho una dsl scacciona qua con la fibra ha fatto una fatica boia ma vabbè ora vediamo se con un trirax parlando riesco a combinare qualcosa ma faccio fatica stando zitto figuriamoci parlando allora credo che farò un un'espansione a 1 minuto e 0 1 se ce la faccio sono contro un protos big biggie che è un match up che boh non lo so non so sinceramente come comportarmi anche perché al momento c'è da dire che in legacy of the void il metagame non è ancora formato cioè tutto sta andando un po' a casaccione e non è facile capire insomma cosa combinare tu vieni subito qua che facciamo subito what ma se l'apertura è qui ahia questa è una mappa strana e quindi niente il supply lo faccio supply lo faccio qua e ho già ritardato di troppo sinceramente perché questa mappa non ci avevo mai giocato e non sapevo neanche che cacchio dovessi fare qua ci dovrò mettere dei bunker quindi mi sa che la mia strategia va un po' a farsi fottere o forse no non lo so probabilmente si probabilmente no vedremo sono necessari altri depositi sta arrivando sta arrivando figlio mio sta arrivando a 17 direi che farò il secondo ok bc vai subito come vedete dopo un minuto e 04 03 ho fatto subito la seconda espansione potevo farla anche più velocemente ma sono un pippone come avevo detto a 18 barracks non sono sufficienti dai barracks così secondo command center speriamo che io ce la mandi buona a 19 seconda barrack vieni qua qua non ho intenzione di fermarmi minerali insufficienti ok qua diventerà un problema presto maledizione mi ha già scautato questo non è positivo ma già visto che sto facendo 3 racks è proprio gratis e ora mi farà il counter in faccia perché invece non ho scautato niente non so neanche dove sia tra l'altro ho avuto anche il culo a beccarmi immediatamente su sta mappa perché è bella estesa ma vabbè vabbè partiamo subito con un marine che è il caso te invece vai giù di qua no tu vai qua tu vai qua tu vai qua tu vai qua tu vai su e vai qua tu vai qua come andate qua terza barrack tu vai subito di modulo l'ho beccato anch'io ma il mio scv sta per morire mamma mia lui sta facendo tanti gateway no questo mi spacca completamente il culo non ho proprio dubbi a riguardo sto già ritardando troppo tutto sono già fregato a dei livelli che non potete neanche immaginare sono veramente cazzi non neanche fatto il il coso qua sono veramente nei cazzi fino al collo è problematica è problematica serio quindi facciamo di steampack andiamo di steampack e di marine che qua la situazione è molto molto grama questo è ancora vivo contro ogni aspettativa ok un po' di muli l'ho sbagliato anche a puntare sono veramente bravissimo e devo pregare in varie lingue di potercela fare credo che andrò di widow mine e pregherò che basti dai un po' di spene per una fabbrichina va bene così qua la vedo veramente grava perchè voi non siete puntati dio santo ok qualche unità ce l'ho se mi spaccano qua sono già finito ah tra l'altro ho smesso di fare i depositi perchè sono bravo così vedete questo è quello che succede quando uno è fuori allenamento smette di fare i depositi poi sono cazzi suoi infatti spero vivamente di potermela scampare in qualche modo ma la vedo piuttosto gramigna tanto qua mi sa che l'appiazzamento di un bunker è piuttosto indispensabile ok no penso che no perchè qua siete quattro ok qua direi che metto subito un reattore poi vado di widow mine con cattiveria nel frattempo qui faccio un bel lavoretto così e poi giù di qua dove? dove cacchio? eh no è già finita fondamentalmente no entrate qua dentro entrate qua dentro no non ce la posso assolutamente fare nel modo più assoluto questo è impossibile sono super fottuto come prevedibile e quindi niente proviamo a piazzare qualche widow mine qua nooo sali su ahhh se la vedo male se la vedo male ahhh come la vedo malissimo sfuggi no 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 non sono assolutamente a livello di questo qua mine piazzatevi no 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 qua è stato un massacro totale no 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 assolutamente no assolutamente no massacro totale totale mi ha disintegrato lui è andato di adept mothership core senza sbagliare niente con una build stabile io sono stato disgregato giustamente perché ha giocato molto meglio di me assolutamente no tra l'altro non mi aspettavo l'attacco non li ho neanche posizionati nel nel bunker come avete visto e forse stando nel bunker stando nel bunker non non avrei comunque probabilmente fatto nulla per salvarmi ma il fatto che la gli adept sono un'ottima unità dei protos perché adesso permettono insomma di spaccare chiuli se li usi come come si deve provo ancora a fare un'altra partita con i terran cercando di piazzare una build una build sempre trirax un po' più decente di quella che ho fatto perché ho fatto veramente schifo ma è stata veramente molto molto male cioè veramente molto molto male mi ha disintegrato tra l'altro non ho neanche potuto pararmi perché appunto quella mappa lì non me lo ha concesso cioè non avevo l'apertura stretta avevo l'apertura larga quindi lui è andato d'attacco subito e mi ha disintegrato era dal quarto minuto che dovevi aspettarti un attacco lui era in ritardo e si c'hai ragione però insomma non tutti attaccano subito a raffica così ma oggi sarà così oggi purtroppo sarà così io vorrei impratichirmi di brutto devo giocare molto di più non ho veramente più la mano e diventa dura anche perché basta trovare un giocatore medio perché questi sia di livello molto più alto del mio questo era un protoss buono che ha fatto una build normalissima e con quella è riuscito a battermi io ho sbagliato la build ho fatto due o tre errori a livello di tempistiche e chiaramente non avevo le unità nelle difese necessarie tra l'altro credo che lui abbia fatto one base sitting io invece ho espanso al minuto uno così facendo tra l'altro forse espandermi in quella mappa qua è stata proprio la più grande cazzata cosa sto facendo qua dove vai tu dovevo anche scautare prima qui c'è l'apertura normale si qui c'è l'apertura normale è anche facilotto da chiudere vedo ok andiamo subito a chiuderlo allora e speriamo bene provo ancora a fare un command a 17 si si proviamo ancora così che dio ce la mandi buona via barrack 2 sarà molto dura qua eh allora 17 command center lo si fa ho fatto la barrack prima e potrebbe essere stato un errore il command lo inizio a mettere su subito e stavolta parto subito di marine e che dio ce la mandi buona mi ha impaventato mi ha impaventato minerali insufficenti no no scb pronto minerali insufficenti ahiaiaiai ufff no credo sia un po' un momento per partire di comando orbitale potrei tentare un po' di riparare a sing ma sinceramente non sono a livello di farlo al momento proprio neanche per errore chiudiamo non ho chiudo non chiudo qui chiudo no così non chiudo mi sa quindi sono fregato così no chiudo 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 e chiudo anche così quindi dovrei essere salvo ok tu vai di qua e poi ricominciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare sono fondamentalmente senza vespene però che è un'altra cazzata però adesso come adesso penso che farò solo dei marine per pararmi un pochino il culo scb pronto no dopo questo faccio il secondo orbital ehhh credo che andrò qua capito scb pronto e speriamo bene no perchè scusami pensavo di averlo dato vabbè è un buon momento per andare a fare un po' di scouting con un marine affermativo facciamole con via 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 tu inizi e vai qua già col trirax sono messo molto male adesso eh ehm la vedo veramente gramigne però lo stimpac lo ricerco ci serve una mano qui l'ho trovato ok loro sono già belli zergati come si può si può notare qua il giustimento minerale è già in mala situation no vediamo se di guido mai me la posso cavare ma non la vedo molto bene ok quindi lui è andato di zerg bello secco ecco sono necessari altri depositi perfetto come al solito mi dimentico di fare i supply dei pots ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito che sono necessari altri depositi sono necessari altri depositi tu fai questo e tu fammi un po' di mineragno ok è entrato con un baneling non è una roba che mi rende felice eh eee io credo che inizierò a fare qualche medva che è proprio una roba classica quindi vediamo un po' cosa hanno non ho visto un cazzo benissimo ho visto l'espansione perchè sono un idiota invece di fare le cose come si deve ok tu inizia a fare il mineragno e tu sarai il mio spazio porto a cui farò in realtà un reattore che costruirò appena finita questa mineragno qua ok sono tanti sono tanti sono tanti ma non così tanti steampak e ora sono morti questo è un buon momento per attaccare appena mi arriva l'altro resto dell'armata appena finisco il resto dell'armata forse posso farcela le mineragno però le metto in due le mineragno le metto in due queste le metto in uno tu si ho capito che sono necessari altri depositi ma visto che sono un coglione non li ho messi ora li metto così tu fammi qualche mineragno intanto ok più minerali grazie più lascio andare più rischio grosso in realtà qua ok un paio di medvax e me la sento poi no qua c'è i 17 lavoratori che non è quello che voglio poi voglio che mi fai un bunker ehi ciao cosa ti metti davanti alla mia casetta biccio vieni qua molto bene molto bene l'ho bis ok sono pronto si va dopo sono necessari altri depositi sono necessari altri depositi sono necessari altri depositi sono necessari altre depositi altri depositi maledizione quello era qua in avans copertona voi uscite e mettetevi qua eh no non scappate non scappate proprio per un cazzo non scappi proprio niente vieni qua venite qui ciao boh siamo riusciti a vincere una partita meno ma si ragazzi sono riuscito a vincere una partita può capitare anche a me siamo riusciti a vincere una partita mi ritengo già molto soddisfatto credo che ora vi farò vedere una missioncina cooperativa visto che mancano 20 minuti questo per farvi capire un attimino comunque qual è il ritmo di Starcraft 2 Legacy of the Voil partita è molto più veloce molto più brutale attacche che arrivano quasi subito e se sbagliate la build di una cazzata siete finiti non è facile non è facile il livello di certi giocatori è estremamente alto il livello di certi giocatori è medio quindi comunque se giocate adesso soprattutto adesso che all'inizio del gioco il metagame non si è ancora fermato avete ancora possibilità di divertirvi chiaramente più va avanti più la community si restringe più la community si fa esperta più per voi diventa difficile difficile quindi io vi consiglio di giocarci vi consiglio vivamente di provarlo questo gioco perché è davvero molto molto bello ok partita pronta si parte subito con la cooperativa siamo con uno zerga dobbiamo impedire l'attivazione dei frammenti del vuoto distruggere i frammenti del vuoto fondamentalmente le missioni cooperative sono appunto missioni cooperative dedicate in cui ci sono degli obiettivi da completare entro un tot di tempo sono molto divertenti tra l'altro hanno uno sviluppo GDR per i singoli eroi ogni eroe ha determinati poteri andando avanti ne sviluppa altri che potete sbloccare è molto figa come idea è molto bella Starcraft Legacy of the Void come detto in molte volte tra l'arcom mode e questa roba qua ha tante belle cose anche per chi magari non ha alcuni interessi a voler per dire giocare competitivo e prendere schiaffi come faccio io ma vuole magari divertirsi in cooperativa con gli amici vedete che io adesso ho due poteri con Raynor perché uno l'avevo sbloccato si si minerali insufficienti giù 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 ok il mio compagno ha lasciato la partita benissimo vabbè quindi possiamo anche portarla avanti fino a un certo punto mi stavo deconcentrando anch'io in realtà stavo facendo i miei cavolacci miei ma si se il mio compagno ha già lasciato la partita adesso prende il posto suo l'intelligenza artificiale normal vivaio vediamo come se la cavali ha ma comunque non la vedo bene perché se non hai un compagno umano queste missioni sono più difficili quanto appaiano quindi boh vediamo un po' come ce la caviamo speriamo con un minimo di grazia ok subito rispondiamo ah non ho il gas bespene per quella roba lì benissimo dai 25 dai 25 boh qua in realtà dovevo fare subito la roba ma vabbè come ho detto col fatto che sto giocando in pve mi sto concentrando molto di meno quindi le cavolate sono nettamente più frequenti e plausibili come va intanto il mio amico IA il mio amico IA è fermo non sta facendo fondamentalmente niente benissimo I'm so very fucked notate che le missioni cooperative hanno le unità del single player quindi ci sono cose come i medici e chicche del genere che insomma muccio gusto sono necessari altri depositi in realtà volevo semplicemente farvela vedere non è che la giocherò molto intelligentemente sta partita neanche per errore cioè volevo solo farvi vedere un attimino la modalità non è che mio amico mi ci sia sbattuto più di tanto come vedete comunque è molto carina cioè l'idea di fondo è molto bellina e mi piace un sacco certo la sua applicazione è molto basilare ma è a mio parere davvero intelligente attacco aereo pronto se serve posso scatenarlo tra l'altro posso farvi vedere un attimino come funzionano i poteri c'è l'attacco aereo pronto quindi adesso vado un attimino a esplorare sto suicidando questi due marine fondamentalmente per farvi vedere le abilità il dottore è molto forte come unità anche i firebatt e tutto quanto infatti dopo tutto sono stati eliminati dal multiplayer perché appunto per chi se lo chiede se vai qua perdi punti vita però vi faccio vedere un attimino il potere arrivano le benshi e spaccano tutto che è davvero molto bello vedete sono molto potenti i poteri dei degli eroi per dire guardate che roba e chiamo anche la Hyperion a fare un disastro doppio e questo lo buttiamo giù subito bisogna spaccarne 10 così questa è la missione visto che solo con i poteri lo si può fare da tanto sono forti ma chiaramente le cose si fanno più difficili andando avanti questo si è fermato completamente non sta più giocando quindi direi che possiamo fermarci qua e tornare al menu principale avrei voluto farvela vedere un po' più a fondo ma insomma ci siamo capiti vedete che tutti gli eroi hanno vari poteri hanno vari potenziamenti con vari poteri che poi vengono descritti ci sono quelli un po' più indicati per i giocatori esperti quelli un po' meno ma in generale sono così poi abbiamo i replay che vi fanno vedere appunto le ultime partite che avete fatto se sono andate bene oppure no l'arcade è sempre molto figo anche l'arcade ieri era bloccato spero che sia funzionante adesso ieri era tristemente bloccato e mi sembra anche adesso purtroppo fondamentalmente l'arcade sono le mod sono blizzard che cioè blizzard sono la community che crea che crea mini giochi col motore di gioco e fa un sacco di belle robe no al momento non mi va l'arcade warships funziona solo warships proviamo warships vediamo se riesco a partire in warships che è l'unico che mi ha caricato fino adesso c'è qualche piccolo problema con la nostra linea a quanto pare impossibile recuperare dati per la partita chuchu madness hivekeeper warships accesso lobby magari ce la fa tanto la chat ha ha perso completamente il filo sta facendosi le sue benissimo qua non accede alla lobby peccato comunque si ragazzi vi confermo che domani uscirà appunto una guida per nabi tipo il sottoscritto tipo il sottoscritto con dei consigli per iniziare a giocare a starcraft 2 non è esattamente un gioco facile dove partire ma insomma uno ci prova il fatto è che se ce la si fa vale veramente la pena farlo cioè vale veramente la pena giocare a starcraft 2 perché è un gioco bellissimo è il miglior rts che ci sia in circolazione ed è indubbiamente uno dei migliori giochi di questo tipo presenti nell'assoluto il problema appunto è che non è facile da approcciare non è facile da approcciare per nulla e questo può creare non poche problematiche ho qualche problema con le connessioni è 50 minuti che gioco in realtà non capisco perché non l'arcade mi dia problemi vabbè ma sarà battlenet che ballonzola è una cosa che succede molto di rado ma può capitare fatto sta che niente vabbè 50 minutini di live l'abbiamo fatti un po' di partite l'abbiamo fatta abbiamo provato la cooperativa ci hanno abbandonato ma avete visto come funziona abbiamo provato il multiplayer siamo riusciti anche a vincerne una che è una cosa che non mi aspettavo di fare in questo live vedete appunto che ci sono sia le partite classificate con i piazzamenti in lega sia i tornei con i piazzamenti in lega insomma diciamo che l'infrastruttura online di questo gioco è incredibilmente complessa incredibilmente diversificata ti permette di giocare veramente tantissimo e la campagna ricordiamoci sono tre campagne che sono una più cioè una più bella dell'altra un iso liberty molto buzzer to the swarm molto carina legas of the void figata totale è una delle più belle campagne che abbia mai giocato sono la più bella campagna per un rts che abbia mai giocato multigiocatore grandi soddisfazioni gioco molto diverso single player perché mancano tante unità che sarebbero sbilanciatissime è uno dei multiplayer più esagerati e spettacolari in circolazione se avete la pazienza di provarci io davvero ve lo consiglio di provarci e vi posso far vedere anche un attimino i profili con i vari emblemi sbloccati emblemi terra emblemi zer emblemi ci sono tante cose anche per personalizzare le varie cose tra cui anche delle skin aggiuntive per certe unità tipo questa ultralisca della collectors e questo colosso della collectors e questa adepta della collectors che non avevo mai utilizzato ma sono molto belle la partita non è più disponibile va bene niente quindi ce la siamo saltata così quindi nulla e adesso sono apparse tutte in realtà benissimo proviamo ancora una volta proviamo eras zombie invasion vediamo se ce la fa no la deve scaricare ciu ciu madness dice valentini anche sul download mi da la difficoltà non capisco cosa sia che lo blocca oggi ma mi adeguo comunque vedete che ci sono un numero di giochi ridicolo tra cui anche giochi di carte e robe varie ci hanno fatto veramente di tutto ma comunque no non sta scaricando una ceppola sono 90 megabyte ecco la fibra dovrebbe farli in 20 secondi no l'ha fatto forse sto facendo sto facendo l'accesso alla lobby vediamo mai giocato eras zombie invasion no partita non più disponibile vabbè pace ci fermiamo qui spero che vi siete divertiti ragazzi per quel quello che abbiamo giocato io mi sono divertito è sempre molto bello giocare a starcraft 2 ci giocherò ancora parecchio in questi giorni perché come ho detto domani arriva la guida per nabbi come sottoscritto poi arriverà la guida dei terran tutte basi non vi so spiegare build order e robe varie o meglio magari ve ne elencherò un paio che ho trovato buono ma il punto è che il metagame non si è ancora formato quindi fare dei build order perfetti al momento è impossibile preferisco farvi delle guide dedicate principalmente all'utilità delle nuove unità alle strategie di base utilizzabili per le varie razze insomma alla roba terra terra le chicche terra terra che si possono utilizzare con le varie razze in legacy of the world per facilitarvi appunto l'ingresso nella serie se non avete mai giocato per oggi ci fermiamo qui ci vediamo alla prossima e buon giocato a tutti ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti